Buongiorno, sono Eleonora, sono dietista e collaboro con il VIP Center Perfect Shape da ormai 4-5 anni e mi occupo delle consulenze nutrizionali e della gestione del peso. La mia filosofia di lavoro per quello che riguarda l'approccio alla nutrizione non è la prescrizione di una dieta rigida, lavoro piuttosto sul cambiamento dello stile alimentare, dello stile di vita tenendo in considerazione l'aspetto anche emotivo. Il tipo di lavoro che faccio si chiama riabilitazione nutrizionale, questo perché appunto nella prescrizione dietetica e nella dieta rigida in termini di restrizione alimentare e di nutrienti si possono creare dei pericoli. I pericoli di una restrizione alimentare possono andare dalla carenza di vitamine e sali minerali che quindi inducono la persona a dover far uso di integratori alimentari di cui nella normalità possiamo fare a meno. L'altro aspetto pericoloso della restrizione alimentare è l'andamento del peso yo-yo, quindi il perdere peso rapidamente per poi recuperarlo altrettanto rapidamente. L'altro aspetto pericoloso della restrizione alimentare è l'attamento del peso io-yo, quindi il pericoloso della restrizione alimentare è l'attamento del peso.